E' stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Mario Fusco. Il giovane chef di Centola ha ritrovato martedì scorso senza vita in una zona periferica di Montpellier, dove il ragazzo lavorava. La Salma resta in attesa del dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria francese, che ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso. Per il momento si parla di incidente stradale, ma non si escludono altre ipotesi. E' difficile stabilire quando la Salma sarà rilasciata per i funerali. E' molto probabile che non potrà essere trasferita a Centola prima di lunedì prossimo. I genitori non avevano notizie del figlio dal 29 febbraio, per questo avevano denunciato la sua scomparsa. Solo il 10 marzo è stato rinvenuto. Sarebbe stato ritrovato prima il motorino del ragazzo e successivamente il giovane cuoco cilentano. Il corpo del trentenne non era sulla sede stradale, per questo i poliziotti hanno fatto fatica a ritrovarlo. Era in una scarpata a circa 200 metri dal veicolo. Nell'ambito dell'inchiesta è stata sentita la fidanzata di Mario, una ragazza francese con la quale conviveva da tempo. I parenti del giovane cuoco avrebbero provato a contattarla nei giorni in cui non si riuscivano ad avere notizie del ragazzo e sembrerebbe che non abbia mai risposto al telefono. Nel mese scorso il giovane chef aveva comunicato ai genitori il suo rientro in paese. Questi ultimi, non vedendolo arrivare, hanno provato in vano a contattarlo. A questo punto hanno deciso di denunciare la sua scomparsa. Mario da alcuni anni lavorava d'inverno in Francia ed estate a Palinuro. Per questo, nelle scorse settimane, aveva salutato il suo datore di lavoro di Montpellier e comunicato a papà Agnello e mamma Claudio il suo rientro. Ora i genitori chiedono la verità sulla morte del loro figlio. Tanti gli interrogativi da sciogliere. Il motorino di Mario, prima di finire a terra, è stato urtato da un altro veicolo. Nel momento dell'incidente, il ragazzo era da solo in sella al ciclomotore o c'era qualcun altro con lui. Nella scarpata ci è scivolato dopo essere caduto dal motorino o in un secondo momento. C'è chi teme che dietro tutto questo possano annidarsi anche ragioni passionali. Tocca alla polizia francese a accertare le eventuali responsabilità. I familiari chiedono la verità e sono disposti a tutto per farla venire fuori. Mario era un grande lavoratore, un cuoco, ma anche un pizzaiolo. Un ragazzo senza grilli per la testa, figlio di una famiglia umile e rispettata da tutti. Queste le parole che uniscono l'intero paese. La sua drammatica improvvisa scomparsa, dice il sindaco Carmelo Stanziola, ha ferito il cuore della nostra comunità che si stringe al dolore che ha colpito la famiglia. Ora a Centola tutti attendono il feretro per l'ultimo saluto.